Buongiorno, siamo qui con i violoncellisti di seconda e terza della Scuola Calvino e siamo qui per un momento conclusivo di musica che vogliamo invitarvi a seguire. Questo è stato un anno molto complicato ma non abbiamo voluto rinunciare a questo momento di condivisione di musica e quindi vi invitiamo a seguirci con molta attenzione. Prima di iniziare però i musicisti che conoscete benissimo si presentano. Mi chiamo Sara, io sono Filippo, sono Federico, mi chiamo Tommaso, io sono Chiara, io sono Tommaso, io sono Lorenzo, io sono Margherita, io sono Vittoria, io sono Lino, io sono Arianna. Il primo brano che eseguiamo è un'antica danza bergamasca. Il secondo brano anche questa è una danza. Grazie. 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 Allora siamo arrivati alla chiusura di questo breve saggio virtuale e vi proponiamo un pezzo che è un inno di ottimismo e a me è piaciuto adattarlo al nostro gruppo di violoncelli perché mi era piaciuto molto il messaggio che è partito dai ragazzi, perché l'anno scorso Tommaso aveva proposto lo studio di questo brano e mi è sembrato molto bella l'idea di lanciare uno sguardo di positività verso il futuro e adesso che la fase un po' più complicata di questa situazione sta passando noi possiamo guardare con davvero tanto ottimismo a quello che ci aspetta. Viva la vita! 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 Viva la vita!